Il sito del Consiglio regionale pubblica l'elenco completo dei comuni e le informazioni sulle elezioni amministrative nelle pagine dell'osservatorio elettorale. Si svolgono il 6 e il 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e l'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 20 e il 21 maggio. Sono 83 i comuni piemontesi chiamati al voto tra questi tre capoluoghi di provincia Alessandria, Asti e Cuneo. In 11 comuni quelli con più di 15.000 abitanti se nessun candidato a sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti si va al ballottaggio. I comuni al voto sono 10 per la provincia di Alessandria, 10 per Asti, 1 per Biella, 18 per Cuneo, 7 per Novara, 27 per Torino, 6 per il Verbano Cusio Ossola e 4 per Vercelli.